Grazie Presidente, grazie Sindaco per l'intervento. Però credo che sia doveroso fare anche un attimo il punto della situazione. Dal 2007 prima come Meetup e poi come Movimento 5 Stelle denunciamo le infiltrazioni, le cosillusioni dell'andrangheta nel territorio reggiano. Anche facendo nomi e cognomi. Nomi e cognomi che sono usciti nell'inchiesta Emilia. Sono stati denunciati, sono stati resi pubblici anche grazie ai nostri interventi. Però devo dire che sarebbe facile dire l'abbiamo detto. Però non è questo il nostro intento. Il nostro intento è ricordare. E ricordare perché come la memoria ci fa evitare tragici errori del passato legati a persecuzioni razziali e dittature. Ci fa anche ricordare i fatti di questi giorni, dei fatti passati. La memoria è anche grazie a giornalisti che sono tuttora sotto protezione come Giovanni Tizian. O come l'ex prefetto Antonello De Miro, entrambi persone che meriterebbero la cittadinanza onoraria di Reggio Emilia. Ci aiutano a ricordare nomi e cognomi. Sulle intercettazioni di queste persone arrestate mergono chiari riferimenti agli appalti pilotati tra andrangheta e comune di Reggio Emilia per Agac. Sui rifiuti occorre che la magistratura indaghi senza guardare in faccia a nessuno. Dall'altra parte, chi governava la città da anni, da decenni, non può fare finta di niente perché Agac era espressione del potere di questa città, di un partito e per anni di un sindaco in particolare, Antonello Spazzari, e il suo compagno, l'amministratore delegato Cantarelli. Non possiamo dimenticare che nel 2008 lo denunciavamo noi con nomi e cognomi che nel 2002 l'Agac diede l'appalto per ampliare la discarica di Poiatica alla ditta di Ciampà, che nel 1999 era indagata per i rifiuti tossici dal Black Mountain e cui fu negato il certificato antimafia. Lo scoprimo nel 2008, ma vorremmo far presente a tutti che questi atti erano nero su bianco nel rapporto della Commissione parlamentare su rifiuti di cui faceva parte il senatore D.S. Fausto Giovannelli, che però non è indagato, non è complice, certamente non è colluso, ma sicuramente non ha fatto il suo dovere di controllore. Come l'Agac del 2009 era società IAMS, S.P.A., che gestiva assieme il depuratore di Gioia Tauro, depuratore in cui eravamo società assieme alla Lico Santo, società sciolta per mafia, nel maggio 2014. Questa cosa è stata denunciata in questa sala nel novembre 2014 da Marielle della Spadoni. Noi ci atteniamo a queste cose perché come movimento siamo assolutamente favorevoli all'istituzione di una nuova Commissione antimafia a cui dare pieni poteri sul controllo degli appalti, sui subappalti di Agac, Pujenia e successivamente IRAN negli ultimi 15-20 anni, per controllare, perché è doveroso controllare. Ha ragione il Vice Sindaco Sassi quando è intervenuto nei giorni scorsi, dicendo che è stato molto probabilmente il PRG di Malagoli a far sì che vi fossero infiltrazioni dell'Andrangheta nell'edilizia. Ma Malagoli non è una realtà di Marte, Malagoli è una realtà di questa città, di quello che è adesso il partito PD e precedentemente PDS, alleato con la Margherita, con cui è governato per decenni. Ha ragione Bini, Sindaco del PD, quando ho chiesto in questi giorni che si faccia dimettere cofrini del suo volo di Sindaco. Come diceva Borsellino, non ci possono essere ombre da chi amministra, anche se non sono indagati. Abbiamo letto anche tutti, credo, quello che ha scritto Tizian sull'Espresso. Discorsi legati all'ex Sindaco e anche alla moglie dell'attuale Sindaco. La moglie dell'attuale Sindaco siamo pienamente consapevoli anche noi che non è indagata. Lo sappiamo benissimo e lo diciamo qui fermamente. Però siamo pienamente anche convinti che su quelle informative della polizia debba essere fatta maggiore luce perché non ci possono essere aspetti d'ombra. siamo consapevoli che ci vuole maggiore attenzione, attenzione che non c'è stata negli anni passati, attenzione che non c'è stata quando l'ex Sindaco andò nel 2009 per la campagna elettorale a Cutro e non sto criticando Cutro perché sottolineo che non deve essere, come è stato detto negli interventi precedenti, una comunità nella comunità. Però purtroppo queste manifestazioni sono sintomo e dimostrazione nei confronti di chi nella malavita persevera e che apprezzano. Sono situazioni che anche l'ex Vice Sindaco Ferrari, l'ex Sindaco Ferrari, assessore all'umanistica del 2004 al 2014, ha detto che sono stati sottovalutati. Bene, ora basta sottovalutare. Ora vogliamo assolutamente che in questa città e in questa amministrazione allontani, e ripeto allontani, quanto prima dagli ambienti pubblici, le persone che possono minare la nostra sicurezza e la nostra tranquillità, che possono causare un rischio per la nostra sicurezza e per la legalità di questa città. Vogliamo una ferma posizione, non solo politica, ma culturale. Grazie. Proseguiamo dando la parola alla consigliera Soragni. Grazie. Grazie.